Un saluto a tutti gli amici di Anime Factory, sono Gigi Rosa e vi do appuntamento all'edizione un video di One Piece Stampede, il film, dove potrete ascoltare Luffy con la mia voce. L'avventura continua sia in DVD che in Blu-ray, mi raccomando, non perdetevi lì. Diventerò il re dei pirati! One Piece Stampede, il film. Dal 24 ottobre, solo al cinema.